ok questo può andare bene salviamolo casomai ma che stai facendo ho trovato una cura dove l'hai trovata da nessuna parte vabbè dimmi cosa ci vuole per questa cura ci vuole una bottiglia d'acqua ok poi shampoo 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 ok e poi del latte ma tu così non crei la cura crei una nuova forma di virus no non ti preoccupare funziona almeno così sta scritto e vabbè vado a cercare sta roba avere domande maro cacchia picchia sta roba vedi lo shampoo lo trovi d'acqua e sapone ma che cacchio vabbè qualcuno vuole venire con me là fuori no che è successo a ciro ha provato a mangiarsi un cactus roba dove venire roberto cos'è successo è ubriaco vabbè vengo io dai vai vengo io voglio vedere che sta succedendo la fuci tu spiegami questo come fa a mangiarsi un cactus me la siamo fortunati guardi guarda un negozio ci sono degli zombie fuori ci penso io uno è morto guarda là che non riesco a colpire gennaro sposta di un attimo mi sono rotto le palle gennaro a posto l'ho ucciso ok gennaro tu vai dentro io ti copro ok ok vediamo cosa c'è sto negozio ha un attimo volato il negozio qui non c'è niente me l'auto gli scaffali sono vuoti vedi se trovi qualcosa e sto vedendo ok aspetta un secondo un secondo me l'ho trovato lo sciampo va bene quello li perde si va bene basta che sciampo dai ma esci prima che vengono gli zombie cacchio un altro zombie ma dove sono c'è un casino e gennaro mi sono dimenticato di migliorare la mira e non è morto l'ho uscito io fatto ok adesso dobbiamo trovare una bottiglia d'acqua forse la troviamo dentro a sti scatoli c'era sta scatola qua o cacchio o cacchio o cacchio c'è una cosa bruttissima madonna mia sembra sembra la nonna vai aiuto la sua prima la pistola ok la spero di colpirlo allora se non si muove io controllo se c'è l'acqua qua dentro non c'è l'acqua quindi lo sai che significa gennaro che cosa gennaro lo sta vedendo si lo sto vedendo un palazzo abbandonato chissà quanti zombie stanno nascosti e che vuoi fare vado là dentro a cercare l'acqua vabbè ti aspetto fuori bastiano e affortunatamente c'è una finestra aperta o cacchio o cacchio proprio davanti me lo so beccato madonna e la madonna ho fatto la tripla uccisione o cacchio devo salire a piano di sopra c'è la bottiglia d'acqua o cacchio ma sto cosa sto traballando sto cosa ma donna ce la faccia sto qua ma che l'hanno combinato ecco l'ho ridotto peggio di come stava ok devo aprire solo questa porta adesso siccome non si apre no non ti rompere non saltare non si deve rompere la bottiglia perché io bestemmio malissimo madonna mia sta traballando tutto sta traballando tutto lo so che c'è uno zombie dietro la porta andiamo a prendere la bottiglia d'acqua e andiamo a scendere da qui prima che crolla ma donna piano ok cacchio non posso più tornare indietro genaro mela ho fottuto da uno zombie bambino questa bottiglia di latte non me ne frega mi dai da una mano sta crollando tutto ma donna fai qualcosa aspetta mo ci lancio qualcosa alla finestra ok togliti che butto il mattone a foglia ma donna sta crollando tutto sta crollando tutto sta crollando tutto ma donna se rimanevo là dentro venivo schiacciato malissimo perfetto abbiamo tutto torniamo alla base genaro e me la l'ho visto tira il stomattone non ci ha fatto un cacchio scappa veloce dentro sto negozio abbandonato ma donna non fare casino ok adesso andiamo piano piano alla base ma che piano piano corri ma dai eccoci qua veloce entra prima che arrivano quei zombie roberto ma che successe a ciro si è mangiato un altro cactus ma questo è scemo come è scemo come uno scemo questo qua è proprio scemo ma l'anime che dai biechi pepe ti ho portato la roba ok mettila sul tavolo così io lavoro alla siringa perfetto adesso lavoro vabbè allora chiamami quando hai finito io vado un attimo di la finito ok adesso ne dobbiamo fare altre 200 milioni per tutte le persone e quindi perchè non mi vai a prendere altra roba ma vaffan ma vaffan spacco tutti spacco vabbè la vado a cercare io la vado a cercare io non ti preoccupare la vado a cercare io ok nel fratto mi faccio un panino faccio un panino con la murtozza grazie Grazie.